Adesso vediamo uno schema di controllo che è progettato per gestire l'errore direttamente nello spazio operativo. Bene, per cui non è costituito dal doppio loop di controllo cinematico e controllo dinamico spazio aggiunti, ma proviamo a controllare e invertire contemporaneamente. Ora, una possibilità dal punto di vista architetturale è quella di avere una X desiderato, quindi una posizione di orientamento desiderata nello spazio operativo, confrontarla con quella dell'organo terminale e avere un errore che in qualche modo ci fornisce un delta X che viene poi mappato tramite l'inversa dello jacobiano, per esempio analitico, in una delta Q, che poi è in qualche modo gestita dal basso livello per andare alle coppie del manipolatore. Quindi l'aspetto su cui dobbiamo concentrarci in questo momento è il fatto che una possibilità è quella di avere in qualche modo l'inversione dello jacobiano all'interno del controllo. E a questo punto non vi stupirete, ma la successiva è quella di trasporre lo jacobiano, perché abbiamo visto dalla dualità centrostatica che in qualche modo forze e momenti all'organo terminale sono mappati in coppie raggiunti tramite la trasposta dello jacobiano. Cominciamo col vedere una prima legge di controllo che ha una serie di interpretazioni abbastanza interessanti e anche abbastanza semplici, ed è il PD più gravità della compensazione nello spazio operativo. Anche in questo caso facciamo riferimento a un problema di tipo regolazione, per cui noi abbiamo un X desiderato costante. Posizione, orientamento. Per l'orientamento pensate a quello che vi pare, per cui per esempio anche gli angoli di reale o l'organo terminale, anche se diciamo non sono quelli più facili da capire, però possiamo fare riferimento a quello che ci interessa in questo momento. Allora, Liapunov, ora qual è l'osservazione da fare per quanto riparo da Liapunov? Da chi dipende adesso la funzione di Liapunov? La funzione di Liapunov dipenderà dall'errore nello spazio operativo e poi dalla velocità ai giunti, nel senso che il mio scopo alla fine di questo è quello di fermare il robot con errore zero nello spazio operativo. Quindi questa è la mia funzione di Liapunov. Ancora una volta abbiamo capito che se io utilizzo la B nella funzione di Liapunov, faccio poi comparire il modello matematico per cui entra l'ingresso e quindi utilizzo un primo termine quadratico nella velocità che è del tipo un mezzo Q punto da sposto BQ punto, parente a un'energia cinetica, e poi un mezzo X tilde da sposto Kp X tilde che è parente a un'energia potenziale di una mola virtuale che è l'interpretazione di Liapunov. con Kp definito positivo ed è un progetto, ok? È da progettare. Ok, allora la derivata, diciamo ormai siamo bravi, per cui Q punto trasposto BQ due punti più mezzo Q punto più, eh va bene, qui abbiamo X tilde punto trasposto Kp X tilde, ok? È la derivata di questo termine qua. Ok, ora non vado subito a mettere la dinamica, ma prima vedo un attimo questo termine X tilde punto, allora X tilde punto a chi è uguale è X punto desiderato meno X punto, ma X punto desiderato è uguale a zero per ipotesi perché sto considerando un problema di tipo regolazione e questo quindi è G con A Q punto. Poiché mi interessa il trasposto, semplicemente perché compare trasposto qui, X tilde punto trasposto è uguale meno Q punto trasposto, G con A trasposto, che è quello che vediamo qua, va bene? Quindi è l'unica cosa che abbiamo fatto, passaggio da qui a qui. Adesso ci mettiamo la dinamica e BQ due punti, so che quindi B punto e meno due C scompaiono, rifaccio i conticini uguali a quelli del PD più compensazione di carità nello spazio dei giunti e ottengo che rimane in mezzo a questo termine qua. Così come ho fatto altre volte, ora utilizzo lo strumento Leapunov come progetto, come strumento per progettare un controllore e il mio controllore lo utilizzerò per fare cosa? Beh, i termini che sono indeterminati nel segno li cancello se posso e quelli invece che qua aggiungo qualcosa che mi fa proporzionale a Q punto in maniera tale da avere un termine quadratico in Q punto ma negativo. Ok? Come lo posso fare? Beh, con la legge di controllo che è presente qui con lo sfondo azzurrino. Quindi guardate io che cosa ho fatto? Ho cancellato G punto, chiuso, G, cioè la gravità, l'ho cancellato. Ok. Poi cancello quest'altro termine strano, meno G con A trasposto Kp X tilde che tutto è tranne che è strano perché ora lo commenteremo anche. E poi aggiungo un altro termine che sarà proporzionale in Q punto. Perché lo prendo proporzionale in Q punto? In maniera tale che io qui ho un termine quadratico in Q punto per cui avrò che il V punto è negativa in Q punto perché poi X tilde. Allora che cosa succede scompaire? Che cosa mi dice questa legge di controllo? Vediamo un attimo. Questo termine in Q punto è un termine veramente molto strano perché è meno G con A trasposto Kd G con A. È apparentemente strano. Va bene? Noi lo commenteremo e capiremo che in realtà ha perfettamente senso il fatto di moltiplicarlo per G con A trasposto prima e poi per G con A. Ok. Ok. Allora se io scelgo questa legge di controllo la mia V punto è questa per cui ho il termine qua Q punto quadro e Q punto quadro. da notare, ma questo ormai l'abbiamo già visto diverse volte, il nucleo di questa forma quadratica, Kd è positivo ma nello Iacobiano no, però questo qua è come se fosse parente a un quadrato per cui è sempre definito positivo. Ok? L'abbiamo incontrato già diverse volte. Allora che cosa significa? Che la V punto è minore di 0, è uguale a 0, V punto è minore di 0 per ogni Q punto diverso da 0. Quindi poi quando è che si ferma la dinamica vado a sostituirlo nel mio bravo equazione dinamica del modello e scopro che si ferma quando... beh... a me avrebbe fatto piacere dire quando X tilde va a 0, in realtà si ferma quando G con ha sposto Kp X tilde uguale a 0, che non è X tilde uguale a 0 e dobbiamo capire perché, ora capiremo perché. Questa legge di controllo dal punto di vista dell'implementazione è abbastanza semplice e questo schema a blocchi ci mostra, diciamo, la sua... una possibile implementazione. Come vedete c'è la compensazione della gravità. Poi qua c'è un G con A trasposto. Allora che cosa vuol dire che io ho qua un G con A trasposto? Per la dualità cinetostatica vuol dire che io qui con questa operazione sto proiettando nelle spazio aggiunti delle forze virtuali del cartesiano. Queste forze virtuali del cartesiano sono Kp X tilde, quindi una molla virtuale nel cartesiano, e Kd G con A, quindi Kd X punto, e quindi uno smorzamento virtuale nel cartesiano. Quindi guardate l'interpretazione di questa legge di controllo, è estremamente, tra virgolette, semplice, adesso ci facciamo pure, ci vediamo pure un bel disegnino, perché la sua interpretazione è estremamente semplice e ci fa capire anche perché c'era quel segno strano. Non solo, è legata in maniera abbastanza forte alla dualità cinetostatica. Allora guardate, immaginate che questo sia il vostro manipolatore. Prima di tutto la freccetta rossa sta ad indicare il fatto che con la G voi avete compensato la gravità dal punto di vista, diciamo puramente, diciamo così, di interpretazione fisica, è come se ora il vostro manipolatore fosse nello spazio, va bene? Non c'è la gravità. Dopodiché, se il vostro x desiderato è qui e questo è la x del vostro manipolatore, che cosa avete fatto? Avete messo una molla virtuale che si annulla solamente quando l'organo terminale va a raggiungere x desiderato e questa molla virtuale è kpx tilde. Ok? Quindi questa è una molla virtuale nel cartesiano. Poi ci avete messo anche uno smorzamento nel cartesiano, perché solo una molla virtuale nel cartesiano provoca oscillazioni indefinite. Quindi ci avete messo anche uno smorzamento. Questo smorzamento quindi è legato a x punto, quindi nel cartesiano. Ora, come lo calcolate la velocità nel cartesiano? Tramite jq punto analitico. Per cui guardate qui, l'interpretazione nel cartesiano di queste forze virtuali è assolutamente immediata e poi con j con a trasposto, graficamente rappresentato da questa specie di freccettina, voi state proiettando queste forze di controllo nel cartesiano nello spazio dei giunti. Quindi l'interpretazione di questa legge di controllo è assolutamente fisicamente immediata. Quindi questo j con a, voi prendete questa forza virtuale che non potete chiaramente implementare, non avete un motore, un motore magico che agisca solamente qua e ve la proiettate nello spazio dei giunti. Va bene? Quindi questa è diciamo l'interpretazione ovviamente alla luce, vi l'ho riscritto, della dualità cinetostatica, per cui del fatto che forse in momenti virtuali l'organo terminale si proiettano nello spazio giunto tramite il trasposto dell'aria cubiana. Qua stiamo usando tutto analitico, anche per semplicità di calcolo dei conti e così via. Lo jacobiano analitico sappiamo che in alcuni casi ha delle controindicazioni, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento, però per l'interpretazione ora pensiamo solamente a quello lineare e così capiamo bene la legge di controllo. Ci faremo un'esercitazione su questa, oggi giovedì, martedì il prossimo, e l'interpretazione della legge vi aiuterà a progettare i guadagni. Adesso io vi faccio così una domanda e ve la lascio senza risposta. Per solo Liapunov, cioè se io avessi avuto un atteggiamento puramente matematico senza la conoscenza della fisica, io invece di utilizzare questo termine complicato qui, avrei ottenuto comunque la stabilità con questo termine. Cioè invece di metterci j trasposto kd j, se io ci mettevo solamente un k' e un kd, il sistema aveva le stesse proprietà di convergenza degli errori. Cosa sarebbe cambiato? Ve la lascio come domanda e cercate di rifletterci anche in esercitazione. Se io utilizzo questa qui e il mio sistema è ridondante, succede qualcosa di così sconveniente e poi lo scopriremo. Va bene? Sempre in esercitazione. Ok. Partendo da questo approccio, io posso pensare a delle varianti, delle varianti in cui io ho semplicemente per esempio se è non ridondante e utilizzo i quaternioni, cosa cambia? Quindi lo stesso identico approccio. Quindi compenso la gravità, poi ho un errore virtuale nel cartesiano di posizione e di orientamento, però l'errore di orientamento a questo punto è l'errore quaternione. Proietto queste forze e momenti virtuali nei giunti con la j trasposta, però a questo punto questa j è geometrica, è lo jacobiano geometrico. E poi ho lo stesso termine di smorzamento con lo jacobiano geometrico invece di quello analitico. Questa è una versione per un manipolatore non ridondante con il quaternone. Se invece voglio fare il tragetto di tracking, quello che abbiamo fatto in esercitazione ieri, noi vi ho dato solamente la teoria sulla regolazione e poi ho detto implementate la tragetto di tracking. Cosa cambia? Guardate, cambia molto semplicemente che il termine di smorzamento adesso è ovviamente positivo, però nell'errore di velocità. E l'errore di velocità ora è questo. Ed è l'errore di velocità legato all'uso del quaternione, per cui qua c'è la velocità angolare, non c'è la derivata dell'orientamento. Ok? Quindi io posso utilizzare diverse versioni, sempre derivate dalla prima con queste piccole varianti. Se poi è ridondante, io ci aggiungo un'altra cosetta qui, che è uno smorzamento nello spazio aggiunti. E questo è legato alla domanda precedente e quindi mi aspetto che poi, diciamo, mi rispondiate con calma anche alla luce di quello che farete in esercitazione a questa domanda. Ok? Quindi noi abbiamo visto questa legge di controllo e questa legge di controllo, diciamo, ha delle chiare interpretazioni con tante piccole varianti. Anche in questo caso noi stiamo compensando solamente la gravità, quindi solamente al regime, non stiamo compensando i termini dinamici. È abbastanza evidente che voi potete pensare di fare la stessa cosa della inverse dynamics nello spazio operativo e quello che fate utilizzate, utilizzate la stessa base per il controllo, cioè u uguale by più n, però a questo punto voi volete un errore nello spazio operativo, quindi usate l'errore nello spazio operativo, lo proiettate nello spazio aggiunti tramite l'inversa dell'eacobiano analitico e poi avete bisogno di questo termine per trovarvi con i conti. Ora vi faccio vedere dove esce quel termine. voi sapete che x punto è uguale a g con a q punto per cui x due punti è uguale a g con a q due punti è uguale a g con a q punto. Quindi quando voi andate a fare questa sostituzione qui all'interno della y, quello che vi trovate è che dovete compensare anche questo termine qua, che viene dalla derivata dell'equazione differenziale. Però poi la cosa importante è che avete nello spazio operativo questo. Che bella questa legge di controllo, solo che ha la stessa identica difetto di quella, la compensazione dinamica nello spazio aggiunti, quindi è qui per completezza, però di fatto ha gli stessi difetti, per cui non posso fare affidamento solo su questo approccio, su una compensazione perfetta della dinamica. E questa sarebbe la sua implementazione che è abbastanza poco leggibile. Ok, allora il confronto fra gli algoritmi di controllo, ci sono tutti quanti grafici, tutto quanto, vi faccio solo vedere qualcosina, giusto per capire qualcosa, ma non entriamo troppo nel dettaglio del confronto, però guardate con calma e poi magari mi fate le domande se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Ci sono tutta una marea di algoritmi di controllo implementati in simulazione, si può fare tutto quello che volete, dal controllo indipendente ai giunti, posizione per la posizione per l'accelerazione e così via. Non entriamo troppo nel dettaglio, anche perché, diciamo, l'unica cosa che volevo far vedere è, allora, qua sono gli errori, le coppie, allora, quello che vi volevo far vedere, intanto voi fate le simulazioni di qualcosina, per cui, diciamo, non... Ah, quello che volevo far vedere è questo, un schema di controllo adattativo, riporta due grafici, la norma dell'errore di posizione, che va a zero, e poi a destra c'è la norma dell'errore di parametri. Allora, perché la norma? Perché io, diciamo, i parametri, questo è un planare a due bracci, i parametri dovrebbero essere un certo numero, diciamo, 20 massimo. Si fa la norma perché così ho solamente un grafico che mi dice più o meno come sta andando l'adattamento dei parametri. Però il problema, quando si fa la norma dell'errore dei parametri, è che si sta facendo il classico errore dell'elementare quando si sommano mele e pere, e cioè i parametri hanno unità di misura diversa. Se io faccio la norma, non ho una grandezza con l'interpretazione fisica, però in questo caso va bene, perché non mi serve, voglio solo capire che sta succedendo. Guardate, i parametri, diciamo, la norma dell'errore, prima di tutto non va sempre verso zero, può anche crescere perché dipende, sto integrando l'errore, quindi dipende dal movimento. Posso disegnare l'errore solo perché è una simulazione, quindi so il valore vero, però l'unica cosa che vi voglio far vedere qui è che a regime, cioè quando il robot è fermo, i parametri non si aggiornano più, cioè quando non c'è errore i parametri non si aggiornano, per cui questo è un algoritmo che va bene, ma non è un algoritmo che mi serve per fare identificazione dei parametri. Va bene? Ok, e diciamo poi ci sono tutta una serie di grafici, ma già vi ho detto che non è assolutamente semplice da leggere e non lo facciamo. Allora, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un po' di algoritmi di controllo, noi adesso siamo in grado di andare giù in laboratorio e di controllare i robot. Guardate che le architetture recenti non sono molto diverse da quello che voi state facendo in MATLAB, cambia molto la frequenza con cui lo potete fare, nel senso che l'hardware che si trova facilmente a disposizione lavora a 100 Hz, 10.000 secondi, che va bene se dobbiamo fare un po' di didattica, se dobbiamo fare un po' di cose in laboratorio tranquille. Sarebbe meglio lavorare al millisecondo, per cui serve un arbero un po' più costoso, un po' più spinto, ma dal punto di vista del controllo non è molto diverso da quello che noi abbiamo fatto e che faremo in simulazione. Per cui adesso siamo in grado di fare queste piccole cose e poi fra poco gestiremo il problema del controllo della interazione, cioè quando il mio robot deve scambiare forze con l'ambiente perché deve fare delle lavorazioni oppure perché lo fa per sbaglio. Ok, avete domande?